ciao amico di facebook buon sabato anzi buon sabato da Pajedo conosci Pajedo? no, impossibile è un posto stupendo, meraviglioso devi venirci ma stupendo con la S maiuscola e meraviglioso con la M maiuscola non pensavo anche se me l'avevano detto è da un po' che volevo venire a Pajedo ma mi sono sempre fermata prima anche perché le località meritavano molto però dovevo andare, dovevo andare soltanto alla fine ci sono arrivata oggi è un po' tardino, siamo a ridosso dell'inverno quindi ho incontrato un po' di neve, un po' di ghiaccio non è il massimo in questo momento però è bellissimo forse anche per questo perché il paese è praticamente disabitato completamente vedo solo tracce di capre meraviglioso, meraviglioso siamo a 886 metri sul livello del mare in comune di Samorco e devi assolutamente venire, scegli tu la stagione se ti vuoi avventurare anche adesso è un incanto però tieni conto del ghiaccio sono qui circondata da montagne, una più meravigliosa dell'altra, una skyline eccezionale reminiscenze del paese si hanno a partire dal 1454, ci sono documenti che testimoniano l'esistenza di Pajedo però questo è un nucleo veramente antico, veramente antico, fatto di tante case in pietra e legno con le classiche lovie però vedrai le foto ecco perché qualcosa di stupendo in gioia sono qui davanti alla chiesa di San Francesco negli inizi del 1600 con un bellissimo campanile qua dietro conserva anche il rimpiario di San Placido, altro santo venerato e decorazioni diciamo così e artistiche è frutto di rimesse di emigranti soprattutto nella terra in Europa perché anche Samoroco è un paese di emigrazione, era quanto meno un paese di emigrazione quindi amico di Facebook io ti invito veramente non perdere una salita a Pajedo tra l'altro è bellissimo passi nel bosco anche in questo periodo tardotunnale con tutte le foglie giù una meraviglia, veramente una meraviglia ciao amico di Facebook buon sabato da Pajedo comune di Samoroco baci, baci, baci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti